Il lavoro è stato condiviso con Mauro Boselli della Regione Emilia-Romagna e un ringraziamento e questo va a delle testate anche giornalistiche, informatori agrarie e tere vita, ma anche a tutti gli autori che hanno pubblicato i loro articoli e quindi hanno offerto degli spunti per offrire la possibilità di organizzare questo tipo di presentazione. Partiamo subito con un afide, Mizus Momecola, è un nuovo afide, importante da rilevare perché questo afide si aggiunge già ad altri afidi come il Misus Persice e l'Afis Spirecola per la trasmissione della sciarca. Quindi abbiamo un ulteriore vettore che aumenta quella che è la possibilità della diffusione di questo virus. La sintomatologia è comune un po' a tutti gli altri afidi, quindi un accartocciamento delle foglie, per fortuna non abbiamo ancora segnalazioni e danni sui frutti. Sempre negli afidi, metto in evidenza questo Disafis Categi, tra l'altro su Zucca, più che altro perché non è un afide nuovo, ma è nuovo il tipo di attacco che c'è stato, rilevato in magazzino su Zucche Gialle, che li hanno resi completamente incommerciabili. Questo perché è un caso particolare di allotrofia, un insetto, cioè questo insetto, questo afide, ha cambiato un po' il suo regime dietetico e in quanto non è assolutamente annoverato tra quelle specie che sono presenti sulle coccubitacee e sui loro frutti. Il motivo è sicuramente dovuto ad un aspetto cromotropico, quindi giallo, della Zucca, che ha attirato essenzialmente gli adulti e quindi le forme alate degli afidi. E chiaramente vedete già dalla foto che il danno è veramente abbastanza elevato. Tripidi. Una segnalazione di un tripide che comunque era già noto in Italia, ma anche in campagna, essenzialmente su limone, nettarine, colture e floricole, ed è l'eliotrips e emorroidalis. Dannoso per il kiwi. Di segnalato sul kiwi, in modo particolare sulle foglie, fortunatamente non è stato ancora arrivato alcun danno sui frutti, però il problema è legato al fatto che è stato rilevato un po' tardi, quindi nel monitoraggio sicuramente degli anni successivi, ci sarà un'ulteriore valutazione di possibili danni da parte dei frutti. I danni sono essenzialmente quelli tipici dei tripidi. Tutti gli stadi biologici sono comunque presenti sia sulla pagina inferiore che sulla pagina superiore. E' della tipica argentatura che è provocata dai tripidi dovuta alla penetrazione sotto la loro puntura di aria sotto l'epidermide. Oltre chiaramente alle maculature bruno che si formano determinate dagli escrementi del tripide stesso. Un altro insetto è il cecidomide. Il cecidomide dell'olio è stato segnalato nel Grossetano da Sineura ole. È un insetto già noto, non è presente, però ha determinato dei danni abbastanza importanti che hanno messo in evidenza gli autori in questa zona della Toscana e possibilmente dovute le cause a cui hanno attribuito questo aumento di popolazione, quindi ulteriori danni, è l'elevato utilizzo di insetticidi. Anche se in questo caso, credo, bisognerebbe ragionare anche in termini diversi. Cioè l'utilizzo maggiore di insetticidi sicuramente porta ad un squilibrio di determinate insetti o anche insetti utili. Nello stesso tempo il mancato utilizzo di notevoli, di molti insetticidi potrebbe anche far aumentare una popolazione che fino a quel momento era un po' contenuta in qualche modo. Chiaramente i cambiamenti climatici potrebbero essere anche uno dei fattori importanti in queste situazioni. Queste sono foto che mettono in evidenza l'adulto, le uova, le larve e la linfa. Le cicidomie sono anche comuni nell'olivo, ce ne sono diverse, ecco questo giusto per far capire che non è soltanto la cicidomia delle foglie. C'è anche la prolassioptra che essendo anche un insetto utile, un parassitoide della Bactrocerole, comunque poi determina anche dei danni. La stessa dei seuro di cui abbiamo già detto, ma una delle cicidomie che ha creato qualche perplessità e problemi anche perché il danno è stato confuso con danni da xylella e perché determina il dissecamento del rametto apicale, è la resseriella o lesuga, cioè il mosserino sugi scossa. Diffuse segnalazioni sono state fatte in Toscana e in Abruzzo, e anche in Puglia sono stati fatti anche dei comunicati proprio per far capire esattamente come questo insetto, la sintomatologia dell'insetto e la non confusione con altri tipi di patologie. Sempre sulle cicidomie vediamo, c'è un ritorno segnalato da Bugiani e Bariselli sulla contarinia pruniforum, è una cicidomia che era presente in Francia e in Cecoslovacchia, oggi presente anche in Emilia Romagna. Fa una sola generazione, i suoi danni sono essenzialmente rivolti ai frutti, in modo particolare specialmente quando le fioriture sono scarse e ci sono anche gelate. E qui vedete anche quelli che sono i danni sui frutti. È chiaramente un insetto che non è molto prevedibile, quindi è difficile anche capire se essenzialmente poi ci potranno essere degli attacchi. Quando c'è è già arrivato e quindi abbiamo anche qui difficoltà nel nostro controllo. Un altro aspetto interessante è stato quello del rilevato in Calabria, sull'olivo, determinato da Leotrips ole, un tripide che comunque era sempre stato presente nelle nostre aree, nelle nostre zone e comunque non ha mai creato determinati problemi, anzi assolutamente qualche deformazione di foglie, ma sui frutti non si è mai visto nessun tipo di danno. Sicuramente le condizioni climatiche sono un po' quelle che hanno favorito lo sviluppo di questo tipo di tripide. Condizioni che chiaramente in Calabria quest'anno forse hanno sviluppato in modo molto eccessivo la presenza. Questi sono i danni, danni abbastanza gravi, importanti, tant'è vero che c'è stata anche una organizzazione nell'ambito della Calabria di ordini o di altri enti ufficiali proprio per capire il danno che effettivamente sulla produzione c'è stato. Ritengo che, per quella che è la mia esperienza sull'olivo, che non ci saranno ripercussioni sugli anni successivi, anche perché non va a interferire essenzialmente poi con tutto lo stato vegetativo. Sicuramente quest'anno questi danni ci sono stati, anche perché c'è stata una valutazione sulle diverse tipologie di coltivazione dell'olivo e tra l'integrato e il biologico, ad esempio, è stato verificato che nel biologico il danno è stato maggiore, oppure tra il lavorato e il trinciato il danno è stato tra il trinciato. Drosofila Suzuki. Chiaramente non parlerò della drosofila perché è noto e ormai diffuso in tutta l'Italia, ma ci sono anche altri lavori, ma quello che è importante è capire che questa aggressività che è nata e è stata segnalata sul lampone mirtillo, oggi pone la sua attenzione in modo particolare un po' su tutte le aree di coltivazione del ciliegio. Il settentrione ormai segnala più del 35% di danno, il che è veramente notevole per quelli che è l'aspetto commerciale delle ciliegie. Mentre nel meridione abbiamo comunque delle segnalazioni, però i livelli sono molto più bassi al momento. In ogni caso rileviamo in diverse zone un aumento anche se non molto elevato, ma progressivo nei diversi anni. Il che significa che la sua diffusione e comunque le catture nel monitoraggio che facciamo sono sempre presenti ormai dappertutto. Sulla drosofila ormai il ragionamento che dobbiamo fare, che tutti fanno essenzialmente, in tutti i lavori che ormai vengono portati avanti, è un'esperienza di lotta integrata. Nessuno, un solo mezzo a disposizione non riesce a contenere l'adrosofila. Per cui è necessario integrare tutti i mezzi possibili, agronomici, catture massali, reti antisetto, trattamenti chimici. Interessante per esempio è anche quest'altro lavoro che ha determinato un po' quella che è la presenza e la distribuzione dell'adrosofila sulla chioma delle piante, ponendola essenzialmente nella parte più bassa. A differenza ad esempio della Ragoletis celatis che si trova molto spesso e anche più frequentemente nella parte più alta. Sicuramente le condizioni climatiche sono tra le cause che determinano la diffusione, ma tra queste cause vanno anche annoverate altre come la presenza di zone boschive, dove l'insetto trova anche un habitat di proliferazione molto favorevole. E quindi la possibilità vicino alle zone boschive c'è un aumento di catture, un aumento di popolazione, chiaramente anche un aumento di danno. Tutte le attività legate all'arriciamento della chioma, unite anche a quello che è la gestione del cotico erboso, risultano valide per la limitazione della stessa drosofila. Esperienze fatte con alcuni parasitoidi come il tricopria dorsofile che essenzialmente lavora sulle pupe. In questo caso è stata anche vista una significatività di mancato sfarfallamento degli adulti fino al 40%. Interessante come esperienza, interessante se anche aggregate ad altre esperienze, ad altre attività e altri mezzi. L'abbandono di frutti infestati. Chiaramente capiamo che è difficile fare una pulizia di tutte le ciliegie infestate quando dopo la raccolta. I ricoltori di solito poi non si presentano facilmente il giorno dopo. Però è uno dei metodi che determina quella della riduzione e l'eliminazione di un popolazione, effettivamente, o di pupe che sono nell'interno delle ciliegie. Un altro aspetto interessante che va rilevato è che abbiamo, oltre alla confusione sessuale fatta con ferormoni, si sta lavorando molto anche su altre metodologie di confusione. E questa delle micro vibrazioni sullo scafoideo va rilevato perché in pratica le cicaline hanno una comunicazione maschio-femmina sullo scambio delle vibrazioni che vengono trasmesse attraverso il tessuto vegetale su cui si trovano. Il linguaggio del vibrazionale dello scafoideo, degli scafoideo, di questi insetti, è abbastanza complesso. Sono anche diversi i linguaggi che sono sia di identificazione, di corteggiamento, di chiamata, di rivalità. Cosa succede? Succede che con un apparecchio, il mini shaker, che permette di produrre delle vibrazioni è stato sperimentato e verificato che c'è una riduzione negli accoppiamenti dello scafoideo. Quindi interessante come esperienza, interessante anche in alternativa a quelli che possono essere poi per altri insetti la confusione sessuale con ferormoni. Chiaramente gli stessi autori danno indicazioni sulla necessità di un miglioramento, di aumentare, allargare il raggio d'azione di questo strumento e anche del consumo energetico. Quindi sicuramente ci saranno delle evoluzioni successive. L'insetto sterile è ormai noto, sappiamo da tanti anni, non è una novità. Però è interessante capire come e perché anche alcuni enti come l'Enea, Crea, Università di Firenze e Fondazione MAC l'hanno ripreso e stanno lavorando un po' per capire esattamente quale possono essere in Italia una serie di applicazioni, una serie di attività. Anche perché la tendenza che oggi si ha per alcune specie di insetti è quella di lavorare molto sugli adulti anziché sulla larva che è poi quello che effettivamente poi determina il danno. Lavorare sugli adulti significa anche cercare di prevenire essenzialmente il danno da parte delle larve ma ha un modo di ragionare, un modo di vedere, un modo di impostare le attività e le prove e la difesa in un concetto completamente anche differente rispetto a un trattamento larvicida. Su questo anche un lavoro del sottoscritto sulla Bactrocerole, sulla propria sostenibilità del controllo degli adulti ha dato un quadro anche su quello che oggi sull'oliva e sulla Bactrocerole si sta facendo nell'ambito del controllo adulticida. Sul scopo e sul modo con cui lavorano gli insetti sterili conosciamo benissimo, quindi è inutile soffermarci, ma è importante capire che c'è questa attività anche perché c'è stata la possibilità, c'è la possibilità perché lo permettono le organizzazioni internazionali, di poter anche introdurre l'insetto sterile e questo però è importante poterlo fare se c'è un coordinamento veramente di alto, molto allargato tra chi fa la produzione, chi trasporta i servizi fitosanitari nel sdoggaramento immediato ma in modo particolare chi poi sul territorio deve organizzare e predisporre i lanci di questi insetti sterili. Ce ne sono diversi, essenzialmente si è sempre lavorato sui litteri, ce ne sono diversi ormai che sono già in uso anche sulle pilottere, sulle ottre è stato lavorato. Interessante sono che alcune specie candidate sono come l'alobesia, come la tuta, come la drosofila ma anche le rincoforus che sono specie che da noi hanno difficoltà nel controllo. A proposito del punteruolo del rincoforo, una nota interessante nel migliorare quelle che sono le attività di controllo con la lotta coatti, va detto che generalmente le palme emettono dei cairormoni che sono degli attrattivi per l'insetto tant'è vero che la stessa potatura che dobbiamo fare alle palme non deve essere assolutamente fatta durante i periodi estivi quando ci sono i voli degli adulti dal rincoforo ma essenzialmente solo, unicamente nel periodo invernale. Questo proprio perché gli odori che emette la pianta sono odori che possono attirare sicuramente questi insetti e questo avviene anche non solo nelle palme. Quindi con l'uso di due prodotti che essenzialmente sono di venile acetato e olio di lino con contenente anche un repellente che è la canfora, si va a migliorare quella che è la persistenza e l'efficacia di insetticidi a prevenire anche eventualmente ulteriore diffusione dell'insetto o attrazione dell'insetto. Le esperienze sono state abbastanza positive, infatti sono state sia con l'acetato di polivenile insieme chiaramente ad alcuni prodotti ceticidi come colpirifosopiletroidi hanno dato dei risultati ottimali anche con assenza di infezioni nei confronti di un testimone che aveva in media un 48% di palme attaccate dal rincoforo. Quindi interessante questo tipo di lavoro. Sul cinibile abbiamo date tantissime informazioni, ci sono anche molti lavori, ma quello che metto in evidenza è che Gian Antonio Armentano rileva in una sua indagine che nella campagna, che rappresenta una delle regioni di maggiore attività, maggiore produzione di castagno e con investimenti anche abbastanza importanti, quasi 250 mila euro, nel lanci del Torimus non ha avuto i risultati che sperava. Cioè loro pensavano di avere risultati superiori al 95%, hanno avuto risultati con punte massime del 40%. Credo che quando si lavora con insetti utili questi risultati superiori al quasi 95%, quindi 900%, è molto difficile riuscili a ottenere anche in un tempo così breve. Ma è necessario, questi sono già punti abbastanza interessanti, il che significa che la regione probabilmente chiederà di integrare agli lanci anche alcuni usi di alcuni insetti biologici. Qui si sta chiedendo, probabilmente si chiederà per il piretro, una deroga che per quanto non è assolutamente credo un prodotto molto selettivo, però sembra che da esperienza non interferisce su quella che è la vitalità del Torimus. La bemisse tabaci ci porta un nuovo virus importante, molto anche grave, riteniamo. Ce lo porta dai paesi asiatici dove lo trovano sul pomodoro, il New Delhi virus, che nel 2013 è stato segnalato in Spagna, poi nel 2015 in Tunisia e in Italia. La pericolosità di questo virus ha già messo in attività i servizi fiducianitari con una rete informativa, con una serie di monitoraggio per verificare subito i nuovi focolai, ma anche con strumenti diagnostici che diciamo abbastanza rapidi nel identificare il virus. La sintomatologia è un po' diciamo abbastanza evidente, si individua facilmente perché chiaramente poi il laboratorio dà sempre il risponso finale e l'accartocciamento dell'intero lembo fogliare, un ingialimento delle foglie, c'è un'atrofizzazione anche della parte, diciamo, apicale della pianta durante la crescita. Per quanto riguarda la popiglia, non dico nulla perché i colleghi della Combardia daranno ulteriori informazioni, dico soltanto che si stanno attivando anche cartelloni stradali, cartelloni della popolazione, dove anche il piede funziona come abbattimento della popiglia. Invece sulla cimicia seatica diamo qualche informazione, sicuramente ci sono tantissimi lavori anche qui presentati, do un'informazione legata, cioè ho rilevato un'informazione legata ad un aspetto importante, acquisizione di fitoplasmi e possibilità di trasmetterla. È stato provato in laboratorio sulla vinca ed è stato visto che c'è una trasmissione, possibile trasmissione di fitoplasmi, il che ci va ad aggravare quello che è il quadro del, diciamo, fitopatologico sulla presenza di questo insetto. Sulla cimice sicuramente la difesa non è l'unica chimica, non è l'unica che deve essere presa, anche qui ci sono tutta una serie di aspetti importanti e di integrazione che vanno fatti con altri mezzi, chiaramente difficile, giusto per darvi un'indicazione di quello che è stato una valutazione fatta su diverse famiglie climiche, piretroidi, neonicotinoidi e fosforganici e quello che è emerso sono diverse attività di diversi insetticidi, ma in modo particolare l'attività maggiore si ha sulle forme giovani e la maggiore efficacia è stata espressa da neonicotinoidi e piretroidi. È stata riscontrata una infestazione, nematori, se ne è parlato anche ieri, qui gli autori nel momento in cui hanno scritto l'articolo l'avevano identificata come melodogene nasi, però naturalmente adesso forse è stata identificata come un'altra specie di medologine presentata ieri da Bruno Faraglia. Qui il problema è che è stata trovata su risaie in asciutta, per cui l'unico metodo di prevenzione è quella legata alla sommersione delle risaie, quindi per sfavorire la diffusione dei nematodi. Un altro aspetto interessante che ormai in tutta Italia si sta portando avanti è l'attività sul melograno, un'attività dove ci sono state una serie di incontri anche abbastanza importanti, sia a Bari nel forum Medicina Vegetale nel 2016, nel 2017 anche a Latina, ma se ne sta parlando moltissimo, i problemi sul melograno stanno aumentando sempre più, ce ne sono diversi, oltre ad insetti nuovi che stanno venendo fuori, la stessa tignola rigata, la cadrea, la muffa grigia e chiaramente gli afri sono ormai già comuni, ma anche la conidiella è uno di questi che sta aumentando e presente nel nostro territorio. Il problema sul melograno, come tutte le culture minori, è legato essenzialmente alla carenza, all'assenza in molti casi, di sostanze attive registrate. E questo specialmente quando abbiamo di fronte delle culture che acquistano subito, immediatamente, con facilità, il consenso anche dei consumatori, e quindi c'è una diffusione di impianti e un aumento di impianti nel territorio. E quindi è importante per le società cercare, e il Ministero in questo caso anche, cercare di migliorare quello che è la presenza, il numero di sostanze attive necessarie per questo. Ultima slide, ultimi due slide, sono quelli gestiti da due mammiferi, essenzialmente le arvicole, che stanno aumentando e vengono sempre più segnalate in diversi casi. Le potenzialità di queste arvicole sono veramente altissime, riescono a lacerare completamente le piante, quindi un albero in 24 ore riescono a far fuori. Alcune barriere che stiamo adottando anche in Puglia su Carciofeti, sono barriere di lamiera che vanno fino a 50 cm di profondità, e impediscono l'accesso, e poi impediscono anche la luce fuoriuscita, in quel caso si cerca di eliminare. Ricordiamo che non è possibile utilizzare, o quantomeno è possibile solo utilizzare, l'odenticidi in contenitori speciali, e l'ultima cosa è quella legata alla convivenza ormai che abbiamo con i cinghiali. È un problema grosso per le culture, è un problema dove tutte le regioni ormai si stanno regolamentando il popolamento, stanno organizzando battuti di caccia, speriamo che qualche prosciutto in più ci arrivi, magari per chi piace, riesce anche ad essere più commercializzato. Vi ringrazio e vi dico che sempre la lotta antiparasitaria è dura, e questa è una vignetta dalle riviste della SIAPA del 1962. Grazie.